Quest'anno, su invito di alcuni amici, sulla dirigenza della squadra Real Pizzo, ho deciso di partecipare anch'io a questa competizione, non giocando ovviamente, ma dando una possibilità economica, quindi come bene sponsor della squadra. La squadra ha il nome Callipo sulla maglietta e niente, io starò vicino, come sono stato vicino nel volley, che siamo andati avanti, siamo arrivati da uno e mi auguro che anche il Real Pizzo possa vincere il campionato quest'anno e continuare l'ascesa. I requisiti ci sono tutti, c'è una squadra molto competitiva e con una rosa veramente fatta bene, con ricambi, con gente molto vogliosa, molto entusiasta di indossare la maglia della nostra società. Sono ragazzi serissimi, vedo sempre gli allenamenti sempre eseguiti in un certo modo, abbiamo un allenatore molto serio, molto competente, che molte squadre ci invidiano e nel nostro piccolo è una società che cerca di fare il meglio. Alle spalle di questa società ci sono imprenditori di successo, primo fra tutti il presidente Callipo, che hanno intenzione di sostenere, di dare una mano a questa società per fare il giusto salto di qualità, cioè quella che è la posizione che Pizzo merita in campo sportivo in Calabria. Ci sono tutti i presupposti per fare bene, l'ambizione è quella di raggiungere i primi posti della classifica e poi vedere, insomma, di fare il possibile per raggiungere la promozione.